Buongiorno, questa mattina mi sono svegliata alle 10 e mezza perché continuavo a svegliarmi erano le 7, ho detto quasi quasi dormo ancora un po' però poi veniva la signora delle pulizie per le 8 e mezza quindi ho detto cerco di svegnarmi, poverina lei stava già facendo i lavori io dormivo, ora preparo la collezione di bimbo caffè Allora, io ho fatto colazione, mi sono presa un caffè con la signora qui delle pulizie che è stata stracarina e non ha fatto il minimo rumore così ho dormito però mi ha detto no ma tanto comunque io accendo l'aspirapolvere dopo le 11 quindi vai serena e niente quindi adesso devo decidere un po' da farsi perché qua c'è un tempo bruttino sono un po' meteoropatica e io avevo prenotato per andare oggi pomeriggio alle 4 alla fiera del libro vabbè ce l'ho a questa fiera del libro, la fiera delle parole a Padova e c'era oggi la presentazione del libro di Matteo Bussola e siccome l'anno scorso mi era piaciuta volevo andare a vedere questo nuovo libro che vabbè ho già addocchiato, ho visto in libreria più volte però allo stesso tempo non lo so perché è un po' pesante andarla a farmi un'ora di viaggio andare un'ora a tornare solo per star lì un pochino così poi fosse stata una bella giornata ne avrei approfittato per girare un po' Padova a farmi non lo so magari incontrare anche qualche mia amica eccetera però con questa giornata un po' così non lo so ci devo pensare un attimo anche perché dovrei partire in realtà intorno alle 2 tra una cosa e l'altra quindi sono già alle 11.40 tipo no che tra l'altro sono proprio le 11.40 ci ho preso proprio e quindi non lo so perché tipo adesso mi sento tutta trastornata non so non ho voglia di fare nulla a livello di università quindi boh non lo so vedo un attimo adesso ci rifletto un attimo tra l'altro vorrei anche passare a prendermi una sfoglia per farmi una torta salata che non l'ho fatta, cioè non l'avevo trovata all'altro giorno al supermercato e quindi volevo farmela per stasera allora alla fine stamattina non ho concluso niente mi perdevo a fare un po' di robe mi sento un po' tutta stordita da questi primi giorni di lezioni adesso mi stavo iscrivendo U a tutti i corsi scaricando le slide eccetera così poi oggi pomeriggio e nei prossimi giorni mi metto un po' pari ieri come vi dicevo ho già anche recuperato i libri quindi cercherò entro domenica di mettermi a fare così almeno sono tranquilla e partiamo già cariche niente adesso tra poco sono quasi l'una e mezza la signora delle pulizie dovrebbe aver finito così io vado a cucinare a cucinarmi qualcosa penso che mi farò un po' di riso di uova e zucchine perché è l'unica cosa che mi sono rimaste cioè le altre le ho già mangiate tutte e poi magari visto che non credo di andare a Padova oggi non ho molta voglia visto il tempo il freddo e tutto credo che stessera mi farò una torta salata quindi vado a comprare poi gli ingredienti pranzetto pronto ho fatto un disastro come sempre con le uova allora come potete vedere ho deciso di rimanere a casina perché mi è venuto anche un po' di gastrite non sono molto al top e quindi niente sono rimasta a casina tra l'altro stessera volevo farmi una torta salata e andare a uscire un attimo andare a comprarmi qualcosina però sinceramente visto che non so tanto ancora bene se mi passa adesso mi metto qua un po' tranquilla se mi passa oggi pomeriggio esco più tardi e vado a comprare le cose che mi servono altrimenti non so stasera cosa mi farò vediamo un attimo perché appunto non sono non sono molto in quadra e piuttosto magari mi faccio una minestrina qualcosa di caldo così e niente quindi oggi è saltato tutti i programmi pazienza ci vuole anche un giorno di stop dopo che insomma è stata una settimana per modo di dire tre giorni ben intensi con queste sveglie con queste risvegli più che sveglia alle 5-5 e mezzo del mattino mi hanno un po' devastata quindi adesso ho questi giorni per recuperare un attimo però volevo farvi vedere i libri che ho di quest'anno perché niente ci tenevo a condividerli con voi allora questo è quello che ho comprato ieri lui è un essere psicosociale in adolescenza del mio prof Albiero e ieri ho iniziato già a leggerlo è molto l'introduzione è molto carina ci sono delle frasi che mi sono già sottolineata ecco per esempio questa ce l'aveva già detto a lezione circa il 75% degli adolescenti si sente vicini ai propri genitori li ammira considera la famiglia luogo di affetti e sostegno e dichiara avere buoni rapporti con i genitori a differenza di quello che si pensa però ci sono delle cose anche sicuramente più interessanti e poi pian piano vi farò sapere quindi questo per la materia a scelta poi abbiamo questi tre libri che mi hanno prestato per colloquio clinico quindi abbiamo introduzione alla psicoterapia psicodinamica di Gabbard poi abbiamo di semi tecnica del colloquio molto carino anche questo come libro ieri abbiamo fatto qualcosina e prossimamente vi racconterò un po' di più e poi c'è questo che in realtà non so se sia molto interessante l'evoluzione della tecnica nel colloquio psicodinamico che è un po' un percorso storico della materia quindi questo per un altro esame da 6 CFU insomma un po' tanto e basta per quest'anno ho questi libri qui cioè per questo semestre anche perché di altri esami così vi racconto anche un po' degli esami che in questi giorni poi mi sono persa via non vi ho più detto quindi io avrei due esami obbligatori appunto questo che è colloquio in cui andiamo proprio a a trattare il colloquio clinico e quindi sono c'è l'esame che tutti aspettano perché si va a vedere finalmente un po' nella pratica cosa si fa in una seduta ovviamente io un po' avendolo visto in prima persona per fortuna un po' di cose già ce li ho però ovviamente vedremo poi tutto l'aspetto di setting come organizzare il setting tutte quelle quelle cose essenziali che garantiscono insomma la buona uscita della terapia e quindi super curiosa il prof è fantastico cioè se riesco vi registro alcuni pezzi perché è un po' difficile perché lui è molto dinamico in tutti i sensi perché oltre come orientamento è proprio attivo si muove in continuazione viene lì al primo banco cioè non riesce a star fermo è molto coinvolgente sta già dando un sacco di perle stupende e quindi quindi ecco lui mi sta trovando molto bene ho il corso due volte a settimana io avrei preferito che fosse un esame da un po' più di CFU in modo da avere più ore però ci accontentiamo poi l'altro esame obbligatorio è testing dove di base c'è anche un po' di statistica andiamo a studiare proprio i test i test psicologici abbiamo già fatto qualcosina l'anno scorso riprendiamo magari alcune cose alcuni test che ho già ho già visto però andiamo proprio a vedere come deve essere strutturato un test le caratteristiche che deve avere perché deve essere deve esserci una taratura che un test deve essere standardizzato cioè le caratteristiche proprio di un test poi nel caso vi racconterò meglio e allora la prof non mi dispiace è un po' pallosa ma per la materia in sé sotto alcuni aspetti però lei mi sembra molto carina e allo stesso tempo anche nonostante le cose alcune le abbiamo già sentite risentite lei ci dà sempre quella qualcosa in più interessante quindi sì non è una delle mie preferite però non male e poi abbiamo l'esame a scelta di adolescenza fantastico anche quel prof bellissima la materia dei temi mi interessano tantissimi tantissimo vedremo sia appunto quando si il periodo di identificazione dell'adolescenza qualcosa vi avevo accennato l'altro giorno poi vedremo un po' i cambiamenti ovviamente fisici che l'adolescente subisce ma anche le modificazioni a livello cerebrale e di conseguenza le implicazioni che comporta perché appunto siamo mi sono piaciute molto le premesse di questo corso che smonta un po' quello tutti quelli quegli ideali che abbiamo sugli adolescenti e quindi mi piace molto sono curiosa e vi terrò ovviamente aggiornati e basta per quest'anno questi tre esami ho provato a seguire disabilità ma volevo spararmi in tempo zero perché la prof mi faceva cadere le braccia non mi è piaciuta per nulla sarebbe anche una materia interessante però se non la rendi interessante allora niente sono scappata e basta di solito noi frequentiamo le prime due settimane tutti i corsi e vediamo un attimo quali scegliere tra quelli a scelta però quest'anno non c'è stata c'è chi non è neanche venuto a seguirla io almeno ho detto le do una possibilità ma basta se l'è giocata faccio ancora un po' fatica a parlare nonostante il colluttorio di ieri che mi è andato in farmacia sembra un po' alleviare la situazione anzi stamattina andava anche molto meglio e niente sto basta vi ho un po' raccontato tutto adesso nei prossimi giorni cercherò un po' anche di sistemare le cose le slide e gli appunti però adesso mi metto qua sul divano con la copertina perché è un po' freddino la signora di pulizia ha reggiato tutto e quindi è rimasto un po' freddo poi oggi è una giornata un po' piovosa quindi non aiuta e quindi questa giornata di relax per me mi sto preparando una merenda una tisanina calda perché è un po' freddo e sono un pochino miglio ma non ancora completamente a posto mi mangio due biscottini e perché comunque ho un po' di fame niente poi non sono uscita e non penso di uscirò perché sono già le 5 passate mi sa che l'opzione sarà quella di farsi una minestrina pastina insomma ovviamente intendo stasera e niente vado torno su di mano oggi proprio giornata di di stacco completo non puoi passare il compleanno così ecco la cura per il mio mal di stomaco io io non sono neanche riuscita a finire la minestrina e quindi adesso sono andata a letto sperando di di poter starmi domani mattina ma mi brucia tantissimo lo stomaco e quindi mi sa che io vi abbandono vi saluto e vi aspetto domani sperando che sia una giornata migliore vi ringrazio per essere stati con me anche oggi vi invito a lasciare un like a questo video se vi è piaciuto qui trovate i miei social e vi ricordo di iscrivervi al mio canale noi ci vediamo domani ciao